Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video Come potete vedere oggi sono qui vestiti in modo osceno e uno si sta vergognando più dell'altro Mi sono andato ad Andrea, il nostro caro e novato Minion E Carolina e Koala Ti aspettavo un ciao Ciao a tutti Ciao No Non funzionano Io ho caldo C'è stato un time out delle luci Oggi ragazzi siamo qui con la Wishback Challenge Versione 2.0 Hai già cominciato a fare i compiti per le vacanze di Natale? Hai mai provato? Non ho capito Hai già cominciato a fare i compiti per le vacanze di Natale? Sono qua con la Carolina, sì? Sì, vai continuo Che sport fai? No, non sono un professore No, ma io credevo che tu insegnassi filosofia Io credevo che tu insegnassi filosofia Lo sai che dopo questo video diventerai famoso su YouTube? YouTube? Sì Dopo questo video diventerai famoso È la prima volta che fai un video su YouTube? Hai mai fatto un video su YouTube? Hai mai fatto un video su YouTube? È finita la cazzone Parole Parole Ma che bravo Edo, accendi l'aria Ti prego Vai Non si sta col cappuccio Kitty Favix Fattor Favij è il commando? Preferivi che vincesse... Preferisci fare video serie su Clash of Clans? No Preferivi Preferisci Preferivi Preferivi Che vincesse Le vicesse Che vincesse Le princesse Che vin... Preferisci che video? Che vincesse Princesse V vincesse Volicesse Preferivi Papa 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 Io sento princess X factor Davide Davide Oh Giossada Oh gli Urban Strangers Preferivo Davide sinceramente Gli Urban Strangers non mi sono mai piaciuti No No Ho sbagliato? È giusto È giusto Sì, ho vinto? Sì! Vai, fammi altro! Enrica! È la skin! Enrica! Rihanna! Enrica! 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 Per quanto tempo è Rihanna? Preferisci! Preferivi! Era brava! Era brava! Era brava! No! No! Era brava! Enrica era brava! Enrica era brava! Enrica era brava! Eeeh! Wow! Sometimes! I got it! Quindi! La Carolina! La Carolina! Non conosce! Non conosce! Questa canzone! Questa canzone! Davvero! L'ho detto giusto! Sì! Oh! Hai mai guardato? Alessia! Mai! È PewDiePie! Eh? PewDiePie! Hai mai? Hai mai? Guardato? Guardato? American? American? Horror? Horror? Story? Story? No! No! Anch'io! Voi ditemi che avete guardato e scrivetelo nei commenti! Se avete visto American Horror Story, lasciate un commento qui sotto e ditemelo! E io ne sarò felice! Qual è il tuo YouTube preferito? Il mio colore preferito! Il tuo YouTube preferito! Il tuo YouTube preferito! Il tuo YouTube preferito! Colore preferito! Il tuo YouTube preferito! Il tuo YouTube preferito! Il tuo YouTube preferito! waitsé! BLUE! GRETA MERCHE! SOFI NEV잖아요! Ah... Sofìa l'istardi! Eh? SOFIA VISCARDI! Il colore preferito? Era giusto? No! Era CHIENNI è il tuo YouTuber preferito! Aaaah! Sei felice di essere in un video di Appliquer? Sei felice di essere in un video di Applicker Applicker? Applicker? Applicker sei un po' fiero È bravo Applicker! Ti cago in bocca Di ok! Cago? Apro? No! Che apro? Siedi? Cago! Non ho capito! Sei scemo! Tacciamo? Sei scemo! Bravo! Chiamiamo le cose con il loro nome, voi siete delle modelle, voi siete, sapete il nome Allora! Allora! Ok, ci siamo! Ci siamo! Tu, tu, io! Quanto tempo spendi a fare video? Quando devi fare video? No! Quando ti prepari per fare video? No! Quanto tempo spendi per fare video? Quanti soldi guadagni facendo video? No! Quanto tempo spendi? Quanto tempo impieghi per fare video? Più o meno sì! Più o meno! E la spendi però vabbè! E rispondi? E rispondi? Rispondi! Eh? Rispondi! Un mi piace? Un commento? Ma stiamo finendo il video? No! No! Sei... Sei... Ah! Tu! Io! Sei... Sei... Amico... Amico? Di... Di Skrillex? No! Di Fedez? No! Di Davide? No! Di... P-D-J! Sofie Viscardi? Di? Sofia! Giovanni? Sofia! Giosada! Sofia! Fazzoletto! Sofia! Sofia! Gio-fi-s-o-io-so-io-so-io-so-so-so- Sofia! Sofia Viscardi! Eeeeee! No! Peccato! Quindi ragazzi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e nel caso vi invitiamo a lasciare un bel mi piace e mi raccomando ragazzi sfondate il tasto mi piace per questo video davvero epico che ci avevo messo un sacco per registrarlo è da tre ore e mezza che stiamo registrando e io non ho mai capito niente noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video che non so quando sarà perché non so quando uscirà ma niente quando uscirà sarà una sorpresa quindi ragazzi vi ringraziamo per la visione appunto di questo video e Ciao a tutti e buone feste! Allora papaghera tu vuoi svela come la papaya?